e poi vincete male dei carabinieri, io devo fare col sindaco, io mi sono stancato perché io devo andare solamente col sindaco e devo fare il promotore per la pulizia e il decoro della città ma che cosa ti è successo? Guarda che cosa stavo per calpestare, per fortuna che l'ho scanzato, per fortuna. No, ti che devo fare il verbale. Ma chi è? Sei sganciato?